Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Luca Trapanese, non chiedermi chi sono, edizioni salane. La storia ha come protagonisti due giovani, Livio e Vittorio. Livio è un giovane di grandi ideali, vuole aiutare il prossimo. Ha da poco sostenuto l'esame di maturità e a settembre si iscriverà all'università. Don Gino, il parroco del quartiere, conosce le caratteristiche di Livio e per questo gli chiede di aiutare un altro giovane, un po' più grande di lui, tale Vittorio, che ha delle difficoltà. Livio non sa quali siano queste difficoltà e si reca a casa del giovane. Incontra la madre di Vittorio, una donna apparentemente distaccata ed altera. Si rende subito conto che Vittorio effettivamente ha dei seri problemi. Vive chiuso nella sua stanza, al buio, sente delle voci. Le voci sono di alieni che gli affidano delle missioni. Ma Livio non demorde e piano piano riesce ad entrare nel mondo di Vittorio e nasce una bellissima amicizia. Inoltre scopre che Vittorio è un ragazzo davvero intelligente, un ragazzo con tanti talenti. In questa storia, quindi, Luca Trapanese affronta un tema a lui caro, affrontato anche in altri testi, che è quello della disabilità. In questa amicizia Livio si trova a dover gestire la disabilità mentale di Vittorio, perché Vittorio è schizofrenico e può avere una vita normale, ma sicuramente deve essere seguito. È un libro bello perché ci racconta di una bella storia di amicizia, una storia che supera anche quelli che sono i limiti della disabilità. Ma oltre a raccontarci la storia di Vittorio, quindi la storia della difficoltà in cui le persone che si trovano a dover affrontare la disabilità, ma anche le persone che sono vicine a chi ha delle problematiche di questo tipo, nello specifico la famiglia e anche gli amici, si trovano a dover gestire. Accanto a questo c'è anche la vita di Livio. Livio è un giovane, come dicevamo all'inizio, con tanti ideali. Livio è omosessuale e vive la sua omosessualità con molta naturalezza. Sicuramente deve anche lui trovare la sua cifra, per così dire, il suo modo per stare al mondo. E in un certo qual modo tutti dobbiamo trovare il nostro cappotto ideale che ci consente di affrontare la vita nel modo migliore. Un libro che parla di tanti argomenti attuali e lo fa con leggerezza, con levità, caratteristica che contraddistingue il nostro Luca Trapanese, che ha scritto questo bel libro che io vi consiglio, Non chiedermi chi sono, Salani Edizioni. Alla prossima!